Prima il teatro, poi il calcio, adesso la scrittura. L'ultima nuova avventura di Raymond Domenech, ex-CT della nazionale francese, inizia con un libro dove racconta tutte le verità durante i suoi sei anni da selezionatore dei Bleu. Tutto solo, un titolo che dice tutto sulle picconate che l'ex-CT potrebbe riservare a quella generazione di campioni come Nelka e Delricoli, quale non è riuscito a distaurare un buon rapporto. Un uomo effettivamente solo nella 2000, quando durante la gara di qualificazione ai giochi di Sydney, accusa la nazionale azzurra Under-21 di aver pagato l'arbitro. Anche la federcalcio francese prende le distanze, un rapporto quello con la federazione che si logura dopo il fallimento dei mondiali in Sudafrica. Nel suo libero lui promette sottraise, rivelazioni e rimpianti, forse un modo per evitarsi dagli errori commessi come tecnico e come essere umano. Ora non resta che attendere l'ultima parola, quella del mondo del calcio.